ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi un nuovo episodio su x4 foundation vi avviso che le ultime quattro ore io li ho passate in gioco semplicemente stando qui guardandomi in giro e aspettando amministrando un po tutto da qua mi sono spostato appunto ho finito il il quartiere generale e la cosa interessante è che ho sviluppato la prima ricerca che è il teletrasporto sto sviluppando l'h per i moduli di produzione che mi permetterà di hackerare moduli di altre stazioni e rubarne diciamo il progetto almeno a quanto ho capito il teletrasporto al momento è livello 1 poi livello 2 sarà fino a 3 sistemi poi 5 poi il limitato cosa significa significa che se io adesso vado in un sistema limitrofo che potrebbe essere adesso vedo se riesco a farvela vedere beh facciamolo all'interno si qua c'è questa nave che appena preso la nave da gas di livello di classe l quindi la nave è attualmente più grossa che ho nella mia flotta guardate qua è enorme ed ecco la nave a forma di fungo con due piattaforme per l'alteraggio ed è una nave che sta scavando come se non ci fossero domani un vedete il drone collector lo sta lanciando e va e raccoglie gas qua c'è il mio amico i miei due amici perché ho anche la l'equipaggio stanno scavando stanno estraendo gli gas a una stiva immensa questa nave perché ha un 52 mila di stiva contro la nave più grossa l'italia m che ho che ne ha circa 12 mila quindi questa mi porterà degli introiti tra l'altro sono anche adesso torniamo subito alla stazione riusando il teletrasporto nuovamente e torno alla mia nave tel trasportati a e quello che voglio fare adesso una mission cina con voi ho preso questo che è un caccia bellissimo perché appunto si chiude viene indietro questa cupolina vedete anche il riflesso bellissimo viene indietro ed è veramente bella quattro laser degli scudi buoni e anche pochino più veloce della vanguard che avevo prima stessa vanguard che ho messo qua in difesa della nave niente volevo fare una mission cina ma intanto volevo farvi vedere un'altra cosa perché io sono andato dal rappresentante di fazione dei teladi quindi quegli appassionati diciamo di profitto di commercio di industria in sorta di ferenghi di star trek e poi sono andato anche dal rappresentante di fazione che avevamo visto l'altra volta degli argon e ho comprato da un lato da loro ho preso la licenza di polizia quindi potrei ricevere anche missioni per quanto riguarda la polizia mentre degli dei teladi mi sono unito alla gilda dei profitti insomma quindi potrò ricevere missioni anche da loro e ho comprato sia da uno che dall'altro dei moduli nuovi quindi posso pianificare sulla costruzione anche di produzione di grafene la carne l'avevo già di acqua di vafera di silicio e poi non mi ricordo più di liquido e uno storage di liquidi quindi posso mettere oltre che quelli solidi anche i liquidi e basta credo perché ho preso queste al momento i moduli abitativi non li ho presi perché costano 10 milioni il progetto più poi eventualmente la costruzione ora voglio andare a fare una mission cina con voi voglio vedere come funziona perché onestamente è la prima che faccio adesso in questa partita e niente proviamo ad andare vedete che si tira indietro vedete che è bellissimo si è proprio chiusa del tutto la il vetro è venuto indietro e andiamo andiamo mi pare che sia qui la mission cina se c'è ancora in realtà è cambiata non è più la stessa recupera no cavoli ce n'era una un attimo fa adesso adesso vediamo subito la facciamo la facciamo subito allora ho provato a ricaricare la partita ma in realtà non ce l'ho fatta perché la missione è andata tuttavia adesso voglio solo tenere osservato se quanto sarà il guadagno di quella nave grossa comunque adesso andiamo sulle missioni disponibili vedete che ce ne sono tante dal gilda commerciale le guerre attualmente in corso voglio fare questa riparare i satelliti così vediamo se riesco a farvi vedere un'altra meccanica dobbiamo andare ma relativamente vicino perché qua c'è un satellite e dobbiamo ripararlo quindi andiamo a farla immediatamente un'altra cosa che vi voglio mostrare dopo e come notate la mia mappa ha dei colori diversi adesso vedete che non sono più tutte blu ma ogni nave ogni vascello ha un suo colore lo fate da qua in alto nei filtri dovrebbe essere qui vi mostrano sul punto esclamativo colorifazione evidenza anche i visitatori così almeno vi semplifica un pochino alla vita dobbiamo riparare i satelliti e per riparare i satelliti c'è un dovrebbe esserci un modo specifico che vi voglio far vedere poi ovviamente non mancate di farmi sapere qua sotto nei commenti se gradite proseguire con la serie di video so che in italia non lo fa praticamente nessuno siamo io e gameplay channel quindi insomma cerchiamo di portare diciamo anche a chi è appassionato di spazio qualche esperienza vi avviso che comunque io come già detto anche da mirco di gameplay channel il pc pompa al massimo ventole al massimo ma perché questo gioco ok molto bello graficamente ma non è quello il punto il punto sono i calcoli matematici il gioco è un calcolo unico tutte le contromisure tutte le le cose diciamo che il sistema deve calcolare a livello commerciale tenete conto che un gioco molto particolare perché io in queste 14 ore che sta durando questa partita sono stato sulla nave veramente pochissimo ora dobbiamo fare una cosa che non vi sareste mai aspettati uscire in tuta spaziale entriamo nella tuta speriamo di riuscire a uscirne un giorno allora andiamo verso acceleriamo un pochino se riesco ok e ci stoppiamo qui vedete che hanno aggiunto l'ossigeno e vado a riparare il satellite dovrei aver selezionato il laser di riparazione e ripariamo il satellite sempre che ci si riesca così ed è un modo economico dovrebbe essere fatto sì ce n'è un altro da riparare no credo che ce ne sia un altro da fare adesso ok ottimo lavoro abbiamo ricevuto il pagamento ah è uno solo da riparare ok stoppati ok abbiamo completato una missione veramente stupida però questa uscita in tuta vi serve fondamentalmente per riparare la nave ma quando avete delle navi immense ci vorranno delle ore però fare riparazioni economiche senza dover andare in uno spazio porto senza dover pagare e vi serve anche per un'altra cosa quando trovate dei container sigillati uscite e gli sparate con la tuta la tuta la tuta inoltre dei potenziamenti che vi consentiranno di diventare più letali o di fare di potenziare credo anche l'ossigeno ora il satellite pronto e guardate avete riparato un satellite ma non è un satellite qualsiasi perché è un satellite degli argon scusate dei teladi messo in una zona in cui comunque a loro interessa fare una una scansione adesso devo cercare dove è quello che determina diciamo chi esce ed è più o meno lo stesso che abbiamo messo anche noi da qualche parte l'abbiamo messo sì beh qualche satellite l'abbiamo messo anche noi eccolo qua ad esempio per scansionare qua perché l'ho messo qua perché l'ho messo in altri punti mi serve per vedere quando una nave da trasporto esce per capire e poi dov'è e andare a chiamarla per il resto vedete che non vediamo assolutamente nulla di quello che capita se non il range visivo delle nostre navi la crane sta riempiendo la stiva credo che sia ancora parecchio lontana però adesso vediamo se riesco a farvi vedere quanto ha di stiva no non me la fa vedere devo ancora capire bene perché a volte sì a volte no comunque no adesso è piena la nave adesso andrà a vendere il suo gas gas idrogeno quindi andremo a fare un notevole guadagno calcolando che qui la stazione che rifornivamo prima è diventata prodotti raffinati e non è più stazione di vaffer di silicio allora ho deciso di spostarmi purtroppo il silicio qua non si vende bene perché non è un guadagno pari ma si guadagna molto bene vendendo gas ho provato anche col ghiaccio il ghiaccio non si produce bene devo provare a mettere la produzione di acqua e il serbatoio d'acqua e portare il ghiaccio vedere l'acqua quanto si vende ma ovviamente bisognerà un pochino indagare su sulle entrate di quanto pagano diciamo queste aziende qua ovviamente per fare tutto questo mi servirà completare la ricerca ricerca per cui adesso la mia nave da trasporto sta provvedendo a portare il grafene i chip intelligenti una volta ottenuti avremo 10 minuti di attesa e dopodiché andrò a fare i moduli abitativi l'ac per i moduli abitativi sperando di scoprirne di hackerarne qualcuno in modo da portare la gente sulla mia stazione e poi iniziare una catena di produzione al momento queste di missioni non so se poi siano vincolate alla zona in cui mi trovo ma non credo perché ho missioni anche argon argon xenon questo è un inizio quindi in pratica qua va a a andiamo a parlare diciamo che vogliamo respingere l'incursione xenon non la faccio perché ho paura che mi si complichi la vita il gioco veramente complesso non lo nascondo non è che dico no ma una volta che l'ho padroneggiata il gioco è veramente complesso perché ora ok ho la mia rete di guadagno ma se arrivasse un attacco xenon non saprei come controbattere e soprattutto so che si può creare una rete di difesa da mettere magari dentro i portali per diciamo difendere difenderci dall'ingresso di xenon ma non ho la minima idea di come fare a costruirlo quindi è un buon modo per fare le reputazioni con le razze con le varie razze o fazioni no sono razze ad esempio io li difendo dagli xenon xenon che sono diciamo nemici di tutti l'ultima cosa che vi dico in questo brevissimo video è che attenzione vediamo un po 144.000 non è il guadagno che mi aspettavo del di questa che attualmente qua ferma no è ferma lì ma perché ferma lì ok anzi vi do un consiglio subito ricordatevi una cosa importantissima quando voi date un comando a una nave col click destro dove dite esplora o vai a soprattutto non esplora ma vai a purtroppo questo comando include anche attendi quindi se io do un comando una nave quella nave una volta arrivata al punto ho detto di raggiungere non ricomincerà a fare questi ordini che gli abbiamo impostato perché il comando vai a include alla fine un comando di attendi quindi dovete andare qui ed eliminare i comandi attendi per fargli riprendere il suo normale lavoro questa è una cosa che non è proprio chiarissima all'inizio ma la capirete a breve insomma adesso poi ve la dico io allora niente volevo solo dare un'occhiata se abbiamo altro no altro non credo stavo per dirvi qualcosa ma probabilmente non era molto molto importante la nave adesso ricomincerà tornare indietro quindi speriamo lo faccia a breve si infatti si sta già muovendo e dopo di che andremo a vedere quanto si guadagna e dicevo gli xenon sono nemici di tutti e quindi se difendete le varie razze da da loro guadagnate fazione punti fazione l'ultima cosa ecco che mi sovviene in questo momento è la base pirata la base pirata non è nemica ma semplicemente quando vedete questi due sciaboli incrociate qua potete se vedete qua le offerte commerciali potete andare a vendere tutte quelle merci che sono illegali ovviamente le merci illegali se vi scansiona la polizia dovete gettarle o almeno non credo vi attacchi subito come vi dirà gettala perché non è legale poi che i paranid siano molto più severi in questo e vi attacchino a vista quello può essere ma attualmente lo ignoro e tra l'altro non vedo nemmeno l'ora di provarci cioè il contrario non non vedo l'ora di provarci allora spero di esservi stato utile con questo brevissimo video su nuovamente su x4 foundation e ora vi chiedo se volete proseguire ovviamente sarà un proseguimento lento perché io devo giocarlo svariate numero di ore e quindi non ci sarà un video al giorno insomma perché è molto difficile ma la mia idea è spiegarvi quello che imparo e soprattutto raccontarvi delle storie magari anche inventandomi qualcosina giusto per farvi vedere quanto è profonda l'alora del gioco o quanto è alto il dettaglio delle varie componenti che che lo formano insomma fatemi sapere ragazzi e alla prossima e ciao ciao